Un drone, nella mattina di oggi, ha colpito la città di Cesarea, in Israele, era proveniente dal Libano ed è riuscito ad arrivare al suolo. Ha colpito una struttura, non sappiamo di preciso quale struttura abbia colpito, ma siamo sicuri che il suo obiettivo era la casa di Benjamin Netanyahu. I danni riportati dall'abitazione del presidente israeliano non sono conosciuti, anche qui c'è un fumo attorno a quello che è successo realmente, però siamo sicuri che fossero partiti tre droni e che due siano stati intercettati, invece uno è riuscito a passare lo scudo d'acciaio di Israele, Iron Dome. La moglie di Netanyahu non era presente in casa e neanche Benjamin Netanyahu, quindi è stato un attacco a vuoto, hanno tentato di colpire la sua casa, poteva essere preso come una minaccia oppure come veramente un tentativo di assassino. Non sappiamo se Esbolla, perché probabilmente è Esbolla che è l'organizzazione dietro l'attacco a Netanyahu, fosse a conoscenza del fatto che Netanyahu non fosse o meno in casa. Dopo l'impatto del drone si sono alzati in volo elicotteri e caccia israeliani per proteggere la piccolissima città di Cesarea. È una città minuscola, lo ricordo, di origine romana fondata da Rodel Grande e ha circa 4.500 abitanti, quindi è più un paese rispetto a una città vera e propria. Si trova a metà fra Haifa e Tel Aviv, quindi a nord di Tel Aviv e a sud di Haifa, ed è una città costiera che si trova sul mare, fra l'altro con rovine romane bellissime, luogo di splendidi ritrovamenti archeologici subacquei. Ecco questo lo riporto per deviazione personale dal mio corso di studi all'università. La notizia non solo è stata riportata dai principali quotidiani al mondo, ma è stata anche confermata dall'ufficio della presidenza israeliana, quindi siamo assolutamente sicuri che questo drone sia riuscito ad arrivare a terra nella città di Cesarea. Di più i manifestanti che sostano sotto casa di Netanyahu e chiedono al governo israeliano di iniziare a occuparsi degli ostaggi che sono detenuti da Hamas, hanno confermato proprio il fatto che questo drone sia riuscito ad arrivare al suolo e che probabilmente a questo punto abbia avuto un punto d'impatto almeno vicinissimo alla casa di Benjamin Netanyahu. E uno pensa, chi di spada colpisce, di spada perisce. Dall'Israeli sono riusciti ad eliminare tutti i capi, lo sapete, delle forze nemiche, che loro considerano nemiche, quindi Nasrallah e Sbollah, Yahya Sinwar ieri, o l'altro ieri, per Hamas, addirittura è morto il presidente iraniano, ma quello sembra essere stato un caso fortuito con l'elicottero schiantatosi in Iran. Insomma, sono morti tutti quanti i corrispondenti di Netanyahu, o per morte naturale o uccisi dagli israeliani, e quindi Netanyahu è naturalmente la vittima o, se non altro, l'obiettivo di tutte quelle organizzazioni che sono rimaste in piedi perché uccisi i capi non sono naturalmente finite, anche se Hamas sembra essere quella che non ha più capacità bellica per riuscire a essere efficace nel colpire Israele. Di Hamas, quindi, non parlo perché la sua capacità di offesa, a mio parere, credo che sia quasi completamente annientata. L'ho detto, credo, un paio di video fa, nel video di ieri, nell'anniversario del 7 ottobre, hanno lanciato qualche razzo verso Israele, è stata una cosa completamente inefficace. Mentre invece Sbolla riesce a essere molto più efficace. Il drone che è arrivato su Cesare non è l'unico riuscito a penetrare le difese di Iron Dome oggi, perché è un altro drone riuscito ad arrivare nell'area di Glilot, scusate se la pronuncio male, non so come si pronunci, a Tel Aviv, la zona è quella di Glilot, la città è Tel Aviv. Ma non sappiamo se abbia colpito il suolo o meno, ci hanno solo comunicato, da Israele hanno solo comunicato, che è arrivato quel drone lì nei pressi di quell'area. Perché quell'area? È l'area dove si trova il quartiere generale del Mossad e quello dell'IDF. Ci sono importanti strutture dell'Israele Defense Force, e quindi il fatto che questi droni riescano ad arrivare a destinazione è una minaccia serissima per Israele. Ed è pessima perché proprio pochi giorni fa un drone ha colpito la base di Biniamina, dove sono morti almeno 4 soldati israeliani e 60 sono feriti. Ce n'erano alcuni, mi sembra 7, che erano feriti in modo gravissimo. Non so se siano morti, non ho trovato fonti che mi dicano se quei soldati siano morti o meno. Fra l'altro alcuni di voi hanno scritto nei commenti delle cose che io non apprezzo, perché quando muoiono delle persone, a mio parere, innocenti, perché in quel momento lì erano assolutamente non offensive nei confronti dei nemici, non c'è mai da gioire per la morte di qualcuno. Ecco, soprattutto se erano dei ragazzi giovani in una caserma, magari non avrebbero mai visto il fronte. Ecco, questa è come la penso io, poi dopo voi mi farete sapere come la pensate qua sotto nei commenti. La minaccia dei droni per Israele potrebbe essere molto più concreta di quanto non fossero quei razzi, vi ricordate, un anno fa, quei razzi che lanciavano da Hamas qualche decina di razzi al giorno, poi dopo, nel corso di pochissimo tempo, si sono ridotti a zero, perché Hamas è stata completamente annientata dagli israeli di Defense Force, anche se non ce lo dicono, ci dicono che ancora devono attaccare, l'ha detto ieri Netanyahu, l'ha detto ieri Ben Givir, devono ancora attaccare, non lasciare tempo al nemico di riorganizzarsi, ma oggettivamente la capacità bellica di Hamas è stata completamente annientata. Mentre i droni di Hezbollah sembrano essere assai più efficaci e molto più efficaci anche dei razzi che lancia Hezbollah, che sono tanti, mi sembra che oggi ne sono partiti altre decine, e in un anno però i razzi di Hezbollah erano riusciti soltanto a fare qui 12 morti, vi ricordate in un villaggio di drusi, dentro Israele, ma drusi che si sentono siriani, diciamo che Hezbollah con i razzi non era riuscito ad essere così efficace, mentre invece con i droni è molto efficace, droni che vengono forniti dall'Iran, che ormai naturalmente ha molto più che il dente avvelenato con Israele, prova ne è l'ultimo attacco che ha portato direttamente a Israele, che ha colpito strutture militari israeliane. E se però fino ad oggi Israele sembrava inavvicinabile, inattaccabile, la sua vulnerabilità oggi sembra molto più evidente. Stamattina oltre al drone sono caduti sull'ordio di Israele anche una serie di razzi lanciati da Hezbollah, che hanno provocato due feriti. Ecco che forse il modello di razzi è cambiato, il timing di offesa di Hezbollah è cambiato, non lo sappiamo però, sicuramente sappiamo che Hezbollah riesce a colpire Israele. con i droni in modo molto molto efficace, e ogni tanto anche con i razzi. Abbas Araci dall'Iran minaccia fortissimo. Chiunque abbia conoscenza o comprensione di come quando Israele avrebbe attaccato l'Iran e o fornisca mezzi e il sostegno per tale follia, dovrebbe logicamente essere ritenuto responsabile di qualsiasi possibile morte o casualità, qualsiasi incidente. Lo dice proprio Abbas Araci, ministro degli esteri iraniano, che lo specifica. Perché? Perché Joe Biden ieri ha affermato di aver capito come quando Israele avrebbe reagito agli attacchi missilistici dell'Iran. Forse si è svegliato un po' da quel torpore che lo prende. Ha detto, oddio, adesso ho capito cosa sta succedendo. È una circostanza in realtà molto, molto spiacevole, molto drammatica, perché se Israele esagererà nella risposta all'attacco iraniano, l'Iran con i suoi droni potrebbe risultare molto più efficace rispetto ai quattro razzi che lanciavano quelli di Hamas, che per Iron Dome erano praticamente dei petardi, dei miniciccioli che lanciavano. Invece i droni iraniani abbiamo visto essere efficacissimi nel penetrare le difese israeliane. Quindi se Hezbollah sta usando i droni contro Israele e riesce a farli penetrare, figuriamoci quando li utilizzeranno gli iraniani, che ne hanno naturalmente molti di più e magari hanno anche dei piloti più addestrati rispetto a quelli di Hezbollah, che ricordo è un'organizzazione, sì, ma non ha un centro di controllo tanto naturalmente evoluto come quello iraniano, che invece è una nazione vera e propria, 80 milioni di persone, che hanno strutture militari, che hanno aeroporti, che hanno tutte quelle strutture logistiche appunto con cui riuscire a gestire e a governare un'offesa reale contro Israele. Ecco quindi che a questo punto è davvero qui il dramma, ovvero se l'Iran ha dei mezzi efficacissimi per colpire Israele, Israele come potrà reagire nel momento in cui i droni iraniani iniziassero ad arrivare in massa sopra il proprio territorio. Questi attacchi portati a termine però da Hezbollah non faranno altro, se qualcuno sta gioendo per il fatto che ci sono questi droni che riuscire a arrivare a terra, eccetera. Purtroppo queste qui sono notizie pessime per le popolazioni coinvolte in tutta questa guerra medio orientale. Perché? Perché i droni e gli attacchi portati a termine da Hezbollah non faranno altro che inasprire sempre di più gli attacchi che porta Israele contro la popolazione civile di Libano, della Siria, della Cisordania e della striscia di Gaza. Nell'attesa di vedere cosa succederà quando Israele attaccherà l'Iran, ma credo che sarà però più un attacco militare rispetto a quello civile, almeno questo sembrano essere le premesse, ovvero non attacchiamo i pozzi petrolifiri, che sembrava essere uno dei primi obiettivi, l'ho già detto ieri, forse non ho visto il mio video sui pozzi petrolifiri, e per quanto fosse assurdo andare ad attaccare il petrolio dell'Iran, se si concentreranno sugli obiettivi militari e se non faranno dei morti, l'Iran potrebbe pensare, a mio parere, come ad aprile, di chiuderla lì e di dire ok, non è stata una cosa tanto assurda il fatto che Israele ci abbia colpito, ma se faranno dei morti e se porteranno dei grossi danni all'Iran, allora l'Iran colpirà e colpirà in modo efficace, ce ne siamo già sicuri perché i droni iraniani colpiscono le città israeliane e riescono ad arrivare a destinazione in modo diverso rispetto ai razzi che invece lanciano, che lanciava Damas, che lancia Hezbollah e che erano veramente poco, poco efficaci, ecco. Voi cosa ne pensate? Possibile che anche Israele sia attaccabile? E cosa dovrebbe succedere per scatenare una reazione ancora più esagerata di quelle che ha Israele di solito? Mi riferisco, ad esempio, al lancio di una nucleare tattica da parte di Israele. Israele, non lo ricordo quasi mai, ma ha a disposizione, siamo sicuri, che ha a disposizione un arsenale nucleare. Cosa dovrebbe succedere? Perché Israele pensi di utilizzare quell'arsenale? Ad esempio un lancio di centinaia di droni iraniani, nello stesso momento, che riescano a colpire con efficacia le città israeliane. Sarebbe sufficiente per Israele per scatenare addirittura il lancio di una bomba nucleare contro l'Iran, una nucleare tattica, magari contro un sito militare? Per me non è una cosa così fantascientifica, perché abbiamo visto quanto violente siano le risposte israeliane rispetto agli attacchi. E qualche decina di morti in Israele, secondo me, potrebbe addirittura far paventare questa. Questa è ipotesi che a oggi sembra assurda, però è sempre sul piatto, perché Israele ha le armi nucleari e abbiamo visto che Israele le proprie armi le usa e le usa in modo sproporzionato rispetto all'offesa che riceve. Fatemi sapere tutto quanto qua sotto nei commenti. Adesso passiamo al posizionamento di quattro isole qui sul mappamondo di legno, rispettivamente per quattro nuovi abbonati a questo canale. Parto dalla Repubblica Domenicana e Haiti, che si trova accanto a Cuba, a est di Cuba, è dedicata ad Edgar Allan Poe, abbonato con questo nickname, fra l'altro Edgar Allan Poe, uno dei miei scrittori preferiti, di cui ho raccontato la morte su Vanilla Magazine, morte degnissima di un suo scritto. Ecco, Repubblica Domenicana e Haiti vanno accanto a Cuba, un po' a est, un po' messa così, perfetto. E la prima è andata. La seconda isola che vado a mettere oggi è Porto Rico, che viene dedicata a Niki24. Porto Rico che va a completare, direi quasi completamente, la parte caraibica della nostra mappa e va circa qua. Quindi abbiamo tutti quanti i caraibi assolutamente completi. Le faroe si trovano a nord dell'Inghilterra e vengono dedicate ad Anilo de Giorgi, quindi le vado a mettere circa qua. Qui ho capito di aver un po' sbagliato, purtroppo, con le distanze dell'Islanda e della Groenlandia. La Groenlandia andava leggermente spostata un po' più a ovest, e invece mi è rimasta lì e quindi dopo ho fatto un po' di cose, però diciamo così, un po' pressata la disposizione è quella lì, ecco. Quarta e ultima isola di oggi dedicata al quarto abbonato Davide Maria è Timor, che va a nord, leggermente a nord dell'Australia. Qui ci sono tantissime isole e cominciamo quindi da oggi ad andare a riempirle. Va leggermente più a nord rispetto ai territori del nord. Direi che le prossime sì, probabilmente inizieremo a completare un po' il quadrante orientale della mappa, il quadrante dell'Oceano Indiano e sopra l'Australia, del Marge del Giappone, eccetera. Bene ragazzi, anche per oggi è finito il video. Grazie mille ai nuovi abbonati, grazie a quelli che commentano, quelli che si iscrivono, quelli che sostengono il lavoro di questo canale, che vi garantisco è un impegno ormai quotidiano, che mi dà tantissima soddisfazione, mi piace tantissimo dialogare con voi, mi arricchisce e che vi chiedo, ecco, di sostenere con tutti quei tasti che trovate qua sotto, abbonati, iscriviti, commenti, eccetera, perché mi spronate, non solo mi spronate, ma rendete sostenibile questo lavoro ormai quotidiano. Grazie mille a tutti, ci vediamo al prossimo video.